Buon anno a tutti e un nuovo episodio con il Linkin Park! La prima volta che abbiamo provato questo, avete fatto molto bene, credo avete fatto meglio di noi Abbiamo fatto bene? Noi ragazzi e ragazzi, questo è il nostro ultimo episodio, voglio direzare la sua attenzione a Rob Borden, Behind the Drums Hai dovuto essere fantastico oggi, grazie mille Quattro, ragazzi, ragazzi, al principio, molto buoni riffs, guitar riffs qui Oh, molto bello, ragazzi! Ragazzi, ancora, non c'erano che questo ragazzo ha anche il hip hop rap. Non c'erano. Non c'erano. Interessante. Anche un'ottima drum groove qui. Ragazzi, un po' l'Italia, ragazzi. I riff di chitarra molto interessanti. Lui che canta, diciamo, che sostituisce un attimo l'altro cantando, diciamo, in rap. Se possiamo dire i pop vibes, come ho detto in inglese. E questo groove di batteria è molto interessante. Un pochino indietro e si va avanti. Un po' l'Italia. 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 Sì 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 Sì